Allora ragazzi, adesso vi dirò come usare, scusate, come usare Zoomerang, facilissimo, comunque andate qua su Tutorials, ci sono tutti i Tutorials, allora, ora vi farò vedere quelli che si pagano. Allora, lo sapete che vuol dire free unlock, vuol dire che si paga, allora 21 euro, 20,99 fa 21 euro, allora, quelli gratis, ci sono tutti, c'è questo, ma che figata, oddio ragazzi, Andate su Shot with Tutorials e andate a fare i Tutorials, comunque, eppure c'è il timer, allora, prendete qualche foglio, che si vede tutto lo scheletro, beh, ma io devo trovarlo ragazzi, un attimo. Ragazzi, sono riuscito a trovarlo, comunque, se mi dite che telefono è questo che sto usando, è il Samsung A5, ragazzi, non va, oh, sì, con questo va comunque, devo fare solo così, sono un po' troppo grande, Aspetta che mi devo fare così o così, ora, non so niente, ok, 3, 2, 1 Ok, aspettate che si carica Ho fatto lo scheletro, le screenshot, non è andato così bene, comunque, sono troppo grande, sono un po' piccola, comunque, ma io ho 9 anni, solo per grandi, scusatemi, ho sbagliato, scusate i tatuaggi di me contro te, allora, perché io li amo, potete pure mandare sti video da salvare su TikTok, io ho TikTok, Vi ho chiesto dall'altro video, sul tutorial, non lo so se l'ho detto, e guardate, quello è come TikTok, facciamole, è super divertente, raga, super divertentissimo, Ok, posa, posa, scusate No, ho sbagliato, ho sbagliato, non si leva, ho sbagliato, raga, perché ho preso le mosche, gli insetti, Ok Ok Fatto, raga Però non è venuto un po' bene Mi piace Guarda, ragazzi, uso gli occhiali Comunque, vorrei avere gli occhiali, ma questi che ho io sono finti No, questo non mi piace Aspettate Ma Oddio Che succede? Ma che diavolo? Oddio, raga Allora, non so come si fa, però mi piace E facciamo questo Potete mettere fuori mi piace E non potete commentare, raga, perché sono solo dei video Ok, allora, io mi devo mettere il pigiama, devo essere vestito e poi mi devo mettere il pigiama perché è già notte, comunque sono le 22.08 di notte, comunque... Mezzanotte Devo mettere un foglio, un foglio Aspettate che... non so se deve essere piccolo, raga, perché non so nulla Questa è la mia cameretta, comunque Aspettate Allora Su questo che ci sono molti fogli Con questo, questa pagina non mi serve più perché quel quaderno è super vecchio Ok Tanto a me non mi piace, Harry Potter Niente insulti Ok Poi dall'altro Mi devo mettere il pigiama Raga, mi sono messo il pigiama, mi devo mettere sotto Raga, mi sono messo il pigiama, mi sono messo il pigiama Ma... No No, non è venuto bene E ma... No, raga, allora facciamo senza occhiali, ok? Ok, raga, facciamo senza occhiali Ero senza occhiali Ero senza occhiali No, ero con gli occhiali, mo... Ah, ok, ragazzo, avevo sbagliato Ma mi tolgo gli occhiali Raga, volete vedere? No, raga No Aspettate, ma io non ho capito niente Genma, nemmeno il secondo, boh Ma che cazzo... No, scusate Nemmeno il tempo di fare il video mi da, ma no Ok, pure questo senza occhiali mi piace A me piacciono gli occhiali Ok, vediamo No Ma perché, raga? Perché non è venuto bene? Raga, ma perché non è venuto bene? Come mai? Cioè, ma io... Ah, un coso di plastica Io non ce l'ho Non ce l'ho No Questo non mi piace Questo si vuole con un pennello colorato Ma io non posso Ah, questo Ok Prima con gli occhiali Mi metto Scusate Ok Così No, ragazzi, ho sbagliato No, ho sbagliato, raga Perché prima io dovevo avvicinare troppo Ho capito Adesso Non si può allargare Così Così va bene Ok, mo Senza occhiali Ragazzi, vediamo Com'è venuto Benissimo Wow Sì È venuto Bellissimo C'è anche Ma è tutto Bellissimo Guardate Non lo so fare Non lo so fare No Mi dispiace Ok Ok, devo seguire L'acconto su TikTok Zomerang Io l'ho già seguito Punturo questo Vabbè Ok, you ready? Show to meet tutorial Allora Solo se avete TikTok Dovete seguirla Se no Se non avete TikTok Non ve lo fa fare Mi dispiace Raga Raga Ok, io faccio qua Gli occhiali Dovete mettervi qua Non ne ho dovete Addio Non si è rotto niente Non dovete fare così Quando siete nel video Non viene un Scusate Ok Scusate Ma non so Chi deve cantare A destra o a sinistra Scusate Mi raga Ed ecco qua Raga Mi piace Come è venuto Sembriamo gemelle Scusate Raga Non ho torto Gli occhiali Non fa niente Raga Non so farlo Comunque Ci ho provato Su TikTok Ah ma questo è bellissimo Io conosco Vista youtuber E' bellissimo Raga Il shampoo Lo shampoo L'ho fatto oggi Eh no raga Non mi è piaciuto Com'è venuto Ok Non so Io lo so come si fa Però non ho qualche colorante Oddio Impressione Mamma mia Oh questo l'hanno fatto Pure su TikTok E' bellissimo Io lo so fare Raga Non sto solo Mio padre sta sul diva Sta in cucina Ok Ok Vediamo come è venuto Perché è super bellissimo Questo trend Pizza o cioccolata Ci pensano tutte e due A mangiare La pizza o cioccolata Tutte e due No questo è pro Che schifo Napoli Milan Forza Inter No No Vabbè Ciao allora raga Mi spiegate Perché su TikTok Hanno fatto Un suono Che bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao 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 Impresa E matria So parmigiano Ma perché Li fanno sempre Sti Sti Americani E sti Spagnoli Cioè Ma questa Ma questo suono Italiano Cioè Ma mica Pensano Che questa Inglese O Americano Forse Italiana E italiana Raga Perché Usano Delle lingue Straniere Non ho capito Eh Non so niente Vabbè Non No È un po' L'ho già provato Comunque Vediamo Eh No 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 Ma prima Era gratis Era gratis Prima Ok Beh Bro Fatto ascoltare No Raga Ma io Non posso Farlo Perché Adesso No Si paga Sempre Facciamo Quello Nella Porta Perché Io Non L'ho Fatto Comunque È Bellissimo Ma io L'ho Fatto Già Cinque Mesi Non Lo So Se Cinque Mesi Ok Vediamo 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 Ok Qua Ok Eh no Raga Raga Ma io Non ho capito Siamo Aiuto Ok Così Ai Raga Non ho capito Non ho capito Più No Non ho capito Più Raga È rimasto Questo Si è bloccato Cioè Raga Ma sto telefono Questo Si blocca Sempre Comunque Non ce la faccio Più Sto nel letto Scusate Però Se vi piace Questa vita Finirà Tra poco Perché io Devo fare Altre cose Dei tutorial Su come Fare Gaggia Life Comunque Ci sono Tutti i tutorial Le storie Di Gaggia Life E dei Altri video Dove faccio Delle Challenge Allora Raga Spero Se questo video Vi è piaciuto Comunque Fatelo bene O se no Non vi viene bene Se vi è piaciuto Mettete like Seguitemi E Poi Lasciate Un like Scusate Raga Oh Questo si paga Allora Allora Questo è L'ultimo Che facciamo Va bene Raga Questo è L'ultimo Allora Facciamo Quello di Savage Ok Quello di Tinder Non so Scusate Raga Devo mettere occhiali Da sole Che Adesso È Stato De 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 Devo Andare In Piscina Oddio Ok In vita Reale Con la maschera Da notte Che sto guardando Un film Che sta Che piange Ok Vi devo A sedere Sul tavolo C'è Un tavolo Questo Che dopo Dovevo andare A dormire E poi Vada Un film Senza Popcorn Un film C'è Però Non La cinema Sto Piangendo No No Ok Togliamo La maschera Buon'olte Ragazzi Questo video È finito Comunque Spero Se vi Piaccia E poi Se volete Altri Consigli Ditemelo Quindi Ciao 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 Ciao